Bene, carissimi amici, una buona serata a tutti voi, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Siamo nel nostro appuntamento di analisi e estrazione per quanto riguarda proprio l'estrazione che si è appena conclusa, quella di giovedì 11 aprile. Andiamo a valutare quello che è successo in questo quadro estrazionale e valutiamo anche gli esiti e le vincite che ci sono state. Allora, le mie parole, come sempre, trovano riscontro sul quadro estrazionale. Quello che mi sentite dire, poi lo andate a verificare, perché vi avevo detto che stanno arrivando tanti 90 e questa sera ne arrivano due, nella stessa estrazione, Napoli e Firenze. Ma andiamo a vedere cosa vi dicevo su quella ruota di Firenze. Metodo Lotto la Spia 72 di Firenze, pubblicato il 10 di aprile. Si vince il 90 di Firenze, cari amici. Si vince il 90 di Firenze. E così è stato. Io questo 90 ve l'ho regalato. Ed è uscito al primo colpo di gioco. Chi ha seguito il mio video di presentazione della Spia, vi ho detto massima attenzione a questo metodo. Perché darà all'ambo secco, chi mi ha ascoltato, zero spaccato. Zero assoluto. 90-19 ambo secco sulla ruota di Firenze. Vinto dal metodo Spia. E vi ho fatto vedere nel video, chi vuole se lo può andare a rivedere il video, a riascoltare. Che il metodo aveva dato, nelle tre condizioni Spia precedenti, soltanto l'ambata. Vi ho detto attenzione perché questa condizione è molto probabile che dia l'ambo. E così è stato. Uno degli abbinamenti era proprio il 19, che tra l'altro è stato proprio il primo numero ad uscire sulla ruota di Firenze. Questa è la potenza dei miei metodi Spia, cari amici. Non vanno snobbati, non vanno snobbati. Sono dei metodi pazzeschi. Quanto vi ho fatto vincere con le mie spie con il 90? Quanto vi ho fatto vincere? Adesso è al di là che si è sortito l'ambo secco. Ma io questo 90, io ve l'ho dato a colpo. Io ve l'ho dato a colpo. A colpo secco. Ve l'ho dato da seguire, ma è uscito a colpo. Il video l'ho fatto mercoledì 10. La spia era la 72 di Firenze. Ah, non è a colpo. Scusate, è al secondo colpo. Però io il metodo ve l'ho presentato dopo. 72 di Firenze. È uscito praticamente al secondo colpo. Ma per voi era a colpo. Perché il metodo l'ho presentato dopo. Quindi io vi invito, e su questo metodo veramente vi avevo dato una dritta incredibile. Vi avevo fatto vedere il perché dovevo uscire l'ambo secco. Ed è uscito l'ambo secco. Questo si chiama studio, professionalità, serietà, competenza. Mi raccomando, le mie spie giocano su unica ruota con il 90 secco e i 5 abbinamenti ambo secco. Modalità vincita venuta. Pagamento alla vincita. Metodo che rimane sempre vostro. Quindi attenzione. 3, 4, 8, 7, 5, 4, 7, 7, 1, 5. Potete contattarvi via WhatsApp per avere le mie spie e giocarle con me. Quando vi presento la spia, dobbiamo essere in tantissimi a giocare. Perché dalle mie spie, quando vi presento il 90 di me metodo di spia, abbiamo vinto una valanga di ambi secchi e di 90. Che voi li potete tutti toccare con mano. Perché sono tutte vincite vere. Tutte vincite documentate. E sono arrivate alla grande. Questa sera arriva un altro 90 dei miei consigli. Adesso abbiamo due bellissime ruote. Che sono Bari e Genova. Bari. Allora intanto vi commento il 36. Che ve l'ho regalato anche questo. Dal metodo La Data Plus. Nei commenti del video tanti mi hanno chiesto conferma dell'Ambata. E io ho scritto che era il 36. Ok. Uscito il secondo colpo. Perché la calcoliamo al sabato. Primo di Roma. Per primo di Roma. Per la data. 1 e 2. 36 al secondo colpo. Ma lo teniamo in gioco per venerdì e per sabato. Perché sapete benissimo che su Bari Cagliari c'è sempre ripetizioni numeriche. Quindi potrebbe ancora arrivare. Quindi con i metodi La Data stiamo andando fortissimo. Dalla data normale abbiamo l'Ambata 30. Prima e seconda posizione mi raccomando. Per entrambi i metodi. Io vi do un solo abbinamento. Giochiamo per Ambe e Ambetto nella modalità vincita-venuta. Quindi si paga la vincita. O di Ambo o di Ambetto. Sempre potete contattarmi per questi metodi. Sempre via Whatsapp. 348 75 47 715. Cosa porta Bari? Proprio il 36 figura 9 in terza. Il 56 grande segnalatore. E c'è una bellissima somma 90 in verticale. 8 82 in quarta posizione. Nonché questo vertibile 44 anch'isotopo. Bari Cagliari. Quindi la ruota di Bari per me è fortissima. Per me è fortissima. È micidiale. Qui abbiamo la spia 70 della ruota nazionale. Che è questa del 4 aprile. Sono passati 1, 2, 3, 4 colpi. Abbiamo ancora 9 colpi di gioco. Questo è il momento di prendere Bari. Attenzione. E ho anche Genova. Anche Genova. Perché Genova questa sera. Guardate cosa porta. L'86. Cadenza a 6. Mi sottopiè con Bari in prima posizione. Poi abbiamo le due figure 9. 54 e 18. E l'86 sommato all'unità del 54. Fa 90. Quindi bene attenti. Perché Genova tra l'altro. È una delle due ruote di mio 90 segreto. La mia giocata mensile. Abbiamo Genova e Torino. Questo è un grande 90. Genova-Torino è un grande 90. E Bari è un trittico pazzesco. È un tris pazzesco di ruote. Bari-Genova-Torino. Chi vuole puntare ruota unica punti Bari. Guardate questo 80. Torino e Genova. Ruote diametrali. Uscito lo stesso numero in diagonale. E ancora questa distanza 1. Che abbiamo già visto. 53 e 54. Sottopi a seconda posizione. Genova e Torino. Ma anche questa cadenza 6. 86 e 76. In diagonale. Quindi guardate cosa si forma tra le ruote di Genova-Torino. Ruote diametrali. Si forma una distanza 10. In cadenza 6. È un numero uguale 80. Ok? Quindi attenzione. Perché qui abbiamo una bellissima situazione. Questo con un altro quadrato. 80-86 e 80-76. Questo è molto bello. Con le due diagonali. Genova-Torino. Qui arriva un grande 90. Qui arriva un grande 90. Firenze guardate. Nonostante tutto ha pagato il 90. Genera ancora il gemello in terza posizione. Che dice sì al 90. Tra l'altro l'88 è un bellissimo segnalatore. C'è figura 9 su Roma. 63. Ruota diametrale di Firenze. L'80 anche su Venezia. Abbiamo avuto l'80 su Genova. L'80 su Torino. E l'80 su Venezia. Zerato unito. 80-40 Venezia. L'89. Quindi un quadro estrazionale. Che ci porta ancora bellissime situazioni. Figura 9 a Palermo in prima. 63. Figura 9 a Milano in prima. Anche qui. Milano porta 3 numeretti. Il gemello in terza posizione. Milano dice sì al 90. Il 33. Quindi Milano-Venezia. Quindi coppia Firenze-Roma. Coppia Milano-Venezia. Coppia Genova-Torino. C'è Bari. Guardate quanti 90 arriveranno. Ma quando io ve li vado a segnalare con le spie. In maniera precisa. Come è stato questo di Firenze. Mi dovete ascoltare. Quello che dico. E li dovete seguire. Li dovete giocare. Perché sono 90 pazzeschi. Sono 90 micidiali. Quindi mi raccomando. Mi raccomando a giocare questi 90. Colatetevi via Whatsapp per i miei metodi. Spia. Quindi attenzione bene. Vi voglio segnalare. Dal mio diaro del mister. Che i miei metodi stanno andando alla grandissima. Cosa vi davo con Ambata Perpetua? Vi dicevo. 21,90. Firenze. Nazionale. Tutte. Cosa arriva? 21,90. A tutte le ruote. Questo è un Ambo regalato. Questo è un Ambo regalato nel metodo completo. Ambata Perpetua. Io vi svelo le quattro ruote dove giocare quest'Ambo. E una delle quattro ruote era proprio Napoli. Che metodo è questo cari amici? Uno dei miei metodi da apprendere. Ambata Perpetua. Quattro abbinamenti Ambo su unica ruota. Con il 21. E quattro ruote dove giocare l'Ambo unico con il 90. Un metodo pazzesco. Cosa vi dicevo? Per Milan-Napoli. Andatevi ad ascoltare il video diaro del mister. Presentazione inizio del mese. Vi dicevo attenzione a questo 90. L'ammetodo Milan-Napoli. E infatti? È arrivato. Dal mio diaro del mister. Trovate il riscontro. Di ogni cosa. Ambata Turbo. Non ne parliamo cosa ha combinato in questo mese di aprile. E poi ancora arriva Ambata Meraviglia con il 36. Guardate questo 36 che si è ripetuto diverse volte. Mi sembra che sia arrivato. Guardate Bari. L'avevamo già vinto. Questo 36.